E' stato un impatto violento quello tra una Fiat Panda adibita a trasporti speciali e un tir avvenuto in località Nepotino di Stilo, proprio nei pressi di quella che un tempo era la stazione ferroviaria Fazzari-Miscinà, da dove partiva il legname per Monasterace. Le peggiori conseguenze sono state per PD di anni 76 di Bivongi, che nel primo pomeriggio di ieri rientrava a casa dopo aver effettuato la dialisi all'ospedale di Locri. Nell'impatto non frontale ma lungo la fiancata del tir, PD ha sbattuto violentamente con la testa sul vetro del parabrezze e i primi soccorritori lo hanno trovato riverso con il capochino accanto alla leva del cambio, ma cosciente. Subito l'intervento dell'ambulanza che ha trasportato il ferito allo stesso ospedale Locrideo. Indenne il conducente della Panda, che non ha avuto neanche un graffio, e così per l'autista del tir. Immediato anche l'intervento dei carabinieri della vicina stazione di Stilo e del 112 radiomobile di Loccella, che hanno avviato le procedure del caso e regolamentato il traffico, visto che la Fiat era ancora posizionata al centro della strada. C'è stato inoltre l'intervento dei vigili del fuoco della sezione di Monasterace. È stata una dinamica strana quanto accaduto, infatti la Fiat che saliva e il tir che scendeva non hanno sbattuto frontalmente, ma c'è stato un violente strisciare tra i mezzi sulla fiancata sinistra. Il risultato è stato che il forte strofinamento ha intaccato le prime ruote gemellate del tir continuando sui copriruota di alluminio fino all'ultima ruota che presentava la gomma esterna spaccata. Il peggio era per la Fiat che presentava la ruota anteriore sinistra distrutta e così il faro e parte del cofano motore. Dopo circa due ore dall'incidente l'arrivo del carro attrezzi che ha rimosso la pande e quindi il ripristino del traffico. Purtroppo il luogo dell'incidente è un punto molto pericoloso perché prima di prendere la rampa del ponte c'è una piccola curva con avvallamento dove si può sbandare facilmente a causa dell'asfalto non idoneo. E ancora in caso di pioggia si forma sempre un laghetto, tanto che ci sono state continue segnalazioni e addirittura sono dovuti intervenire dei privati per creare uno sfogo per l'acqua. L'appello degli automobilisti che si sono fermati sull'incidente è per Metro City che in questa zona latita lasciando da tempo tutta l'arteria SP9 che la monasterace porta a Stilo, Pazzane e Mangiatorella senza segnaletica verticale e orizzontale. Per non parlare del manto stradale pieno di buche e specie di notte è molto pericoloso.